Nessio Olner, un ambiente naturale, come vedete qui siamo alle amenità di sottomarina. Andiamo se non c'è molto vento. La vela, festeggiando per l'estino. Ma che bella. Tra le reti, qua a fuori Malamoco, non Malamoco, ma all'entrata degli alberoni. L'abbiamo tagliato in una zona che è molto bassa, qua si vede, non so se vedete l'acqua, è molto molto bassa. Il Pro Delivio sta cercando di vedere, ecco qui passiamo in mezzo alle reti. Grande Escio. Qui dovremmo avere di nuovo acqua buona, vedete che bella che è, limpida ancora. Ok. Ritorniamo verso Venezia, si vede San Marco, è sempre emozionante vedere questo. e adesso la barca si diverte e corre con noi. e adesso la barca si diverte. E' molto più grande. E' molto più grande. A questo punto, e 50 kilometri torniamo. E' molto più grande. andare all'arena con delicatezza e con attenzione. Basta. Giù, non so se la vedete, c'è San Marco e noi con al timone il nostro prode Livio stiamo avvicinandosi. Allora, com'è Livio? Benissimo, bella emozione. Com'è prima di fa, con gli stessi suoni, con i grandi bastardi che andavano a fare le calciate. Sono belle e buone, belle e buone di Venezia. E noi rientriamo dal fondo, come i primi mercati veneziani che davo il secondo andavano a mettere il sale a Piacenza e facevano i primi soldi per costruire questa repubblica serenissima. Vabbè, Livio è qui e siamo tutti molto felici. Allora, questa barca va col vento in poppa che ha sempre portato. Che rientravano così, diciamo. Allora, finalmente il padrone e artefice di questa barca ritorna a bordo con Venezia sullo sfondo. Roland, da Roland. Tanto contento di vedere Giacomo. 900 chilometri Roland, 900 ne ho fatti. 900 effettivi, ma se contiamo la corrente molti di più. E' brava, e conti litri di Barbera. Grande. Niente, niente, vino niente. Caro Giacomo. Grande Roland, adesso ti abbraccio. No, non potete capire la felicità, veramente. Cioè, 900 chilometri, ragazzi, con questa barca meravigliosa. Siamo arrivati. Roland. Sì, siamo stati. E Giacomo. Siamo arrivati. 901 chilometri. Isola La Cia. 22QIO Sì, siamo stati. Sì, lo sarà stato fatto. Èetah lì la sprazione di sbotale. Sì, è nati,standing filmori che spugati sempre hanno avuto. La kiloc الل lohntrse. …